amici di fashion one ci troviamo al membri a cellino san marco e questa sera una grandissima serata ospite gianni morri e ci troviamo con uno dei più grandi dj gianni morri ciao gianni è arrivato da pochissimo per dare vita a una serata fantastica i locali si prestano moltissimo è molto molto bello quindi so già che sarà una bella serata sono passati pochissimi minuti ma la serata ormai sta cominciando a prendere forma e ci troviamo con il proprietario del membri christian conte la programmazione del membri sta andando alla grande anche questa sera un nome importantissimo gianni morri si questa sera c'è da trovare un carissimo amico un dj apprezzato in italia anche all'estero gianni morri è una grandissima serata gianni ormai con le telecamere di fashion one ci troviamo spesso qui nel salento e ormai sono diventato salentino chiusi come la trovi la nostra puglia bellissima oggi ho visitato brindisi per la prima volta perché sono in passaggio e l'ho trovata una città molto molto bella direttamente dal pineta faccio un saluto a tutti gli amici di fashion one ciao ciao a tutti la gente davvero entusiasta tutti si stanno diventendo e scatenando il bambi non delude mai quali sono i prossimi appuntamenti già da sabato prossimo abbiamo janin e proseguiranno gli altri sabati con dj molto conosciuti christian e io ti faccio i complimenti per questa discoteca che è davvero bellissima e sta riscuotendo un successo enorme perché è diventato un punto di riferimento per tantissimi giovani sì quest'anno siamo entrati nei miglior club d'italia grazie anche all'organizzazione dobbiamo ringraziare tutto lo staff del membri del forte e per la poppa Cristian, io ti ringrazio facciamo un saluto a tutti gli amici di Fashion One e invitiamoli a venire a trovare il Man B noi vi aspettiamo come ogni sabato qui al Man B ciao Fashion One I wanna rock with you I wanna rock with you